Presentata nella sala assemblee del Consorzio BIM di Teramo la 39esima Tendopoli di San Gabriele, che si svolgerà dal 20 al 24 agosto al Santuario di Isola del Gran Sasso, a presentare la manifestazione come sempre padre Francesco Cordeschi, ideatore anima della Tendopoli. In continuità con il tema sviluppato lo scorso anno, l'unica libertà che abbiamo è scegliere da chi dipendere, in questa Tendopoli i giovani verranno messi di fronte ad una scelta sintetizzata nello slogan Liberi con un sì. Con questo tema vorremmo proprio dire ai ragazzi che l'unica libertà che abbiamo è scegliere da chi dipendere, cioè l'unica libertà è scegliere se vuoi dipendere dalle cose, dalla politica, dal consenso, dalla stima degli uomini o vuoi dipendere dalla verità che stendi nel tuo cuore. Ecco, li poniamo dinanzi a questa scelta, la devono riuscire a capire, e questo a me mi sta a cuore, che siamo persone che dipendiamo, che non siamo padroni assoluti, la nostra vita è una dipendenza. Dentro questo fatto quindi nasce tutto, nasce il cammino che faremo. Nella vita se fai ciò che ami sarai libero, se ami ciò che fai sarai felice, se sei libero sei tu che crei il mondo, se non sei libero è il mondo che crea te. Quindi l'invito ai ragazzi, il messaggio pressante, proprio in questo momento storico, che non è per niente facile, ripeti, è possibile, è possibile. L'importante è che, come dice il Santo Padre, che usciamo, che usciamo dal nostro chiuso, dal nostro quieto vivere, dalla nostra poltrona, dal balcone, come dice il Papa, e ci mettiamo a camminare. Se cadiamo non è importante, l'importante è che ci rialziamo. È meglio camminare e cadere, che non camminare per non cadere. È meglio amare, rischiando anche di sbagliare, che non amare per non sbagliare.